Ciao a tutti, oggi vediamo gli esercizi sull'integrale dell'arco seno x. La formula è la seguente. Partiamo subito con un esercizio. Come dice la regola, il risultato sarà 7 arco seno di x più c. Come potete vedere, applicare la formula è molto semplice. Quindi passiamo direttamente al livello successivo. Andiamo a vedere una formula un po' più complessa, cioè quella dell'integrale della funzione composta. Come avrete capito anche dagli altri video, se prima avevamo 1 meno x alla seconda, ora abbiamo 1 meno f di x alla seconda, dove f è una funzione qualsiasi. Se prima il risultato era arco seno di x, ora è arco seno di f di x. Dobbiamo assicurarci di avere sopra la derivata della funzione. Vediamo subito un esercizio. Qui mi rendo subito conto che ho 36x alla seconda, che sarebbe il quadrato di 6x. La formula mi dice che devo avere al numeratore esattamente la derivata della funzione. E la derivata di 6x è 6. Quindi, applicando la formula, questo integrale farà arco seno della funzione, che da noi è arco seno di 6x. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video. E ricorda che se stai studiando per un compito in classe, puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video. Grazie.